Domani a Carnea i funerali di Enrico Gianardi, il cacciatore avviene fattore, decedito ieri nei boschi di Vezzano Ligure. Bandiera della Francia sul presepe di Manarola, la natività più famosa al mondo, omaggia i caduti negli attentati di Parigi. Stop alla pesca dell'acciuga in Liguria si riprende nel 2016, col diretti occhio alla provenienza. Nuove assunzioni docenti alla Spezia, 231 insegnanti vedranno assegnarsi le nuove sedi di servizio il 24 e 25 novembre. Domenica è a teatro e a teatro con la scuola, al via la stagione del civico dedicata ai più piccoli. Buonasera telespettatori del TLS Giornale, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione. Si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 a Carnea i funerali di Enrico Gianardi, il cacciatore benefattore deceduto nei boschi di Vezzano Ligure per arresto cardiaco. Ce ne parla Laura Ivani. Aveva deciso di essere cremato e così domani dopo le eseque alle ore 15 a Carnea il corpo di Enrico Gianardi verrà portato ai boschetti per esaudire questo suo desiderio. Un bravo uomo, un onore per me averlo avuto come amico, così lo ricorda Giorgio Cozzani, sindaco di Follo. L'uomo è stato trovato ieri mattina senza vita dai compagni di squadra nel corso di una battuta di caccia a Vezzano Ligure, in località Trestrade. Il medico legale ha confermato che a struncare la vita del 56enne è stato un infarto. Gianardi era molto noto come il cacciatore benefattore. Da 12 anni organizzava con il suo club del Colombaccio una manifestazione di solidarietà a favore del Gaslini. Il nostro obiettivo è fare del bene a questi bambini il più possibile, radunare dei fondi per affrontare questa bella iniziativa, penso, visto che l'ospedale Gaslini è il nostro ospedale della Liguria a livello mondiale e al quale dedichiamo queste nostre rassegne con tutto il nostro ricavato dell'intera festa che l'anno scorso abbiamo devoluto 5.300 euro a favore della Tana degli Orsetti che sarebbero dei mini appartamenti che vengono per i genitori che vengono fatti per i genitori che arrivano da distante. Un impegno che aveva permesso nel corso degli anni di raccogliere quasi 100.000 euro a favore dell'ospedale pediatrico di Genova. Il sindaco di Follo lo stimava per questo e lo aveva voluto al suo fianco in lista nelle ultime elezioni comunali quelle del 2014. Gianardi viveva da molti anni a Carnea con la moglie Fulvia e il figlio Fabio, lavorava come operaio specializzato in Arsenale, alla Spezia e aveva una grande passione per la caccia. Siamo cacciatori ma abbiamo un cuore, aveva scherzato quest'estate Gianardi in un'intervista di presentazione alla manifestazione dedicata al Gaslini. Sono stati i compagni di caccia che ieri mattina si sono accorti che qualcosa non andava e hanno subito lanciato l'allarme. Sul posto 118 pubblica assistenza di Vezzano Ligure, carabinieri di Sarzana e vigili del fuoco. Simbolo di pace che da diversi anni si illumina nel periodo natalizio, il presepe di Manarola in questi giorni in corso di allestimento. Ma intanto da ieri la bandiera francese è spuntata proprio sopra la capanna della natività. Un segno di vicinanza al popolo transalpino colpito da attacchi terroristici voluto proprio dal papà del presepe luminoso più famoso del mondo, Mario Andreoli. Mi sembrava un bel gesto, dice con semplicità, il prossimo gennaio Mario Andreoli compirà 88 anni. La bandiera rimarrà lì sino al prossimo 7 dicembre quando la sostituiremo con degli angeli. Il giorno dopo, l'8 dicembre, stiamo preparando una grande festa per l'inaugurazione. Un'immagine che sta facendo il giro del mondo insieme ai principali monumenti italiani illuminati dal blu, bianco e rosso della Francia. E anche oggi Mario è stato impegnato nell'allestimento del presepe luminoso sulla collina che domina il borgo delle Cinque Terre con l'aiuto di alcuni volontari del CAI e del paese. Volontari che hanno risposto ad un suo appello per proseguire questa tradizione consolidata. Ormai sono un po' anziano, sorride, per fortuna ci sono queste persone che mi danno una mano. Assistiamo quotidianamente a proposte di progetti per realizzare nuove strutture invasive per il nostro golfo e non ci si pone il problema della sostenibilità ambientale. Scrivono in una nota a Franco Arbasetti e Rita a Casa Grande, riaccendendo il conflitto di lavoro contro diritto alla vita e alla salute. Si enfatizza la necessità di avere un super porto, proseguono i rappresentanti dei quartieri del Levante e si dimentica di dire che un porto sovradimensionato avrà ricadute devastanti per la città. Pare che i cittadini spezzini si interessino solo dell'emergenza occupazionale, che siano del tutto indifferenti alla salvaguardia di quell'ambiente che è intorno a loro e che è fondamentale per la loro salute e dei loro figli, che potrebbe essere una risorsa per la vocazione turistica da favorire invece dell'allargamento, peraltro programmato male, del porto. Concludono. Col diretti in presa Pesca Liguria annuncia che le imbarcazioni della nostra regione operanti nel settore della pesca dell'acciuga si sono arrestate per il loro periodico e tradizionale fermo biologico invernale che durerà fino ai primi mesi del prossimo anno. Questo fermo volontario, spiega Daniela Borriello, responsabile regionale col diretti in presa Pesca, che è sempre stato effettuato dai pescatori Liguri e non è remunerato dallo Stato, scaturisce dal rispetto delle tradizioni locali e dalla presa di coscienza che l'attività di pesca debba passare da una buona gestione della risorsa, evitando che avvenga la cattura accidentale delle piccole acciughe presenti nel nostro mare in questo periodo. Invitiamo i consumatori a interrogare i venditori sulla provenienza delle acciughe nel caso siano vendute per nostrane. Nella tutela della corretta informazione al consumatore avviseremo tempestivamente quando riaprirà la stagione della pesca in Liguria. 231 nuove assunzioni di docenti alla Spezia grazie alla fase C della buona scuola, lo ha annunciato il responsabile provinciale PD per la scuola Luca Liguori. L'ho intervistato Laura Ivani con le immagini di Raffaele Maulelli. In arrivo nella scuola nuove assunzioni, in modo particolare in Liguria sono previsti 1484 nuovi insegnanti e nella nostra città la Spezia 231. Che tipo di assunzioni saranno? Sì, questa è la fase C del piano straordinario del governo Renzi. È una fase straordinaria. Sono assunzioni particolari perché non sono assunzioni su cattedra, ma sono assunzioni sull'offerta formativa della scuola. Infatti si parla di organico potenziato. Sono assunzioni straordinarie perché permettono agli istituti di poter completare in modo ovviamente univoca l'offerta formativa di ogni scuola. Quindi possono essere potenziate le vocazioni artistiche di quell'istituto, quelle musicali, linguistiche, scientifiche. A seconda della vocazione che sceglie la scuola di Darsi, dell'offerta formativa, quegli insegnanti in più, sono circa 7-8 per istituto, andranno chiaramente a coprire quelle opportunità. Ecco, si tratta di insegnanti per quale ordine scolastico e poi ci sono due date importanti in vista. Sì, sono coperte tutti gli ordini di scuola, dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, comprese anche un contingente di insegnanti di sostegno. Le sedi ovviamente saranno assegnate dall'ufficio scolastico provinciale il 24 e il 25 novembre. Quindi in quelle date gli insegnanti che saranno stati beneficiati di proposta di nomina riceveranno la sede di lavoro. Ecco, il governo Renzi crede molto in questa buona scuola. È una riforma che però di fatto è stata molto osteggiata, criticata da varie parti politiche e possiamo dire non solo. Il governo Renzi non solo crede, sta dimostrando di investire molto nella scuola, ma ci sta abituando a una politica nuova, anche innovativa se vogliamo, cioè passando dalle promesse ai fatti. Per quanto riguarda le polemiche legittime da parte di alcune categorie, di alcuni componenti sociali, però direi che in questo senso sono stati un pochettino strumentali. Ortonovo, il primo comune della provincia spezzina ad aver approvato all'unanimità la mozione di rifondazione comunista a sostegno degli utenti e lavoratori ATC. La mozione in particolare chiede il sostegno degli enti comunali con proprietari di ATC assieme alla provincia, dal sindacalista Cobas e autista ATC Luca Simoni, che ha sollevato recentemente la questione di gravi deficit di sicurezza dei mezzi e degli ambienti di lavoro dell'azienda di trasporto pubblico. Stanziati dalla Giunta regionale, su proposta della Vicepresidente e Assessore alla Salute Sonia Viale, 132 mila euro per la formazione del personale volontario delle associazioni convenzionate per i servizi di emergenza. I corsi per la qualifica di soccorritore saranno ottenuti dal servizio 118. In attesa che il Governo stabilisca la ripartizione dei fondi per la sanità alle regioni, dichiara la Vicepresidente Viale, abbiamo ritenuto opportuno procedere all'assegnazione delle risorse alle ASL Liguri per garantire un'adeguata formazione ai volontari che svolgono un'attività essenziale nella gestione del sistema delle emergenze sul territorio, che nei piani della nostra Giunta sarà interessato nell'arco dei prossimi mesi di una riorganizzazione nell'ottica di un maggiore e efficiente servizio rivolto ai cittadini. Piccoli negozi di Paese, se ne parla questo mercoledì in Regione. Il consigliere regionale Andrea Costa, Presidente della Quarta Commissione Ambiente e Territorio, presenterà un emendamento per comprendere gli aiuti che la Regione erogherà in più territori. L'intervista con le immagini di Raffaele Maurella. La difesa delle piccole botteghe di Paese è un punto importante, sostenuto dall'amministrazione Toti. C'è una proposta e a questa proposta la prossima settimana verrà aggiunto un emendamento che ha poi di fatto lo scopo di allargare il raggio. Sì, la proposta di legge della Giunta dovrebbe essere licenziata nella Commissione di mercoledì prossimo. Noi siamo convinti dello spirito positivo e importante di questa legge, cioè garantire il presidio nelle piccole comunità. Nella legge si parla di attività commerciali che possono usufruire di questi benefici che ricadono in comuni con residenti al di sotto dei 2.000 abitanti. L'emendamento che ho presentato tende ad allargare perché la valutazione che faccio, ci possono essere comuni superiori ai 2.000 abitanti, fino anche a 3.000-3.500 abitanti, con una grande estensione in termini di superficie e quindi con una bassa densità, cioè formato da frazioni, piccole frazioni che anche esse hanno bisogno di mantenere in vita questi presidi. Da qui l'emendamento che porta al limite a 5.000 abitanti, ma con una densità di popolazione di inferiore a 100 abitanti per ogni chilometro quadrato. Di fatto interesserà alcuni comuni della nostra provincia, in modo particolare della sua Valdivara? Ma certamente, ad esempio, l'emendamento farà sì che comuni come Varesi Ligure, Ricode il Golfo e Beverino potranno far parte di queste misure, di questi aiuti, così come altri comuni sparsi in tutta la Liguria. Approvato oggi dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore ai trasporti Giovanni Berrino il disegno di legge di riforma del trasporto pubblico locale. Le novità introdotte dal provvedimento, spiega l'assessore regionale ai trasporti, riguardano la previsione delle percentuali di riparto delle risorse per i servizi minimi a carico della Regione con l'obiettivo di assicurare condizioni di equità tra i gestori del servizio. Le risorse per i servizi su ferro e su gomma saranno ripartite in base al raggiungimento di parametri di efficientamento da parte del singolo gestore. L'obiettivo è stimolare le aziende a dare un servizio efficace ai cittadini che corrisponda a un efficiente impiego di risorse. Viene quindi prorogato il termine per operazioni di riorganizzazione interne alle aziende in riferimento al personale, esodi e mobilità fino al 30 giugno 2016. I servizi sociosanitari informano che da oggi fino al 31 dicembre è aperto l'avviso pubblico relativo a contributi a sostegno della locazione a favore di inquilini morosi e incolpevoli. Le domande potranno essere presentate presso i servizi sociosanitari in via Fiume 207 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 11.30. L'avviso e il modello di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune www.comune.sp.it nella sezione Primo Piano. Strage di piccoli uccelli vicino all'ascensore del castello San Giorgio alla Spezia lo denuncia ancora la Lipu che punta il dito sulle vetrate trasparenti contro le quali andrebbero a sbattere ogni giorno decine di piccoli volati. La pericolosità dei vetri trasparenti e riflettenti è nota da tempo alla Lipu che tre anni fa, afferma Paolo Canepa, ha organizzato alla Spezia il primo convegno nazionale sul tema a cui ha partecipato l'assessore Saccone. Canepa scrive al Comune della Spezia chiedendo che si intervenga urgentemente ad apporre adesivi che rendano visibili i vetri per evitare ulteriori impatti mortali. Presentata stamani la nuova stagione del teatro civico dedicata ai più piccoli e alle scuole. Sergio Diofili. Dopo il grande successo di numeri che sta riscuotendo la stagione del civico con quasi 900 abbonati il teatro cittadino ha presentato il nuovo programma dedicato ai piccoli, alle loro famiglie e alle scuole racchiuso in un calendario eventi. Riconfermata la formula vincente delle due rassegne di teatro ragazzi del civico le domeniche a teatro e a teatro con la scuola per il terzo anno consecutivo il teatro cittadino apre le porte alle produzioni Liguri con un accento sempre più marcato alle produzioni spezzine. Usiamo le eccellenze cittadine. Riesce la città a riempire il teatro con delle cose di grande qualità e di grande interesse. Sono sette spettacoli divisi alcuni nelle mattine per la scuola, alcuni il pomeriggio e la domenica per portare i bambini a teatro. Partiamo con uno spettacolo di Scaramuzzino del teatro dell'Archivolto e seguiamo con il teatro Cargo. Sono due spettacoli, questa Zebra non è un asino e il compleanno afgano a cui tengo molto perché sono due spettacoli che parlano di integrazione, che parlano di differenza. Questa è una stagione molto sociale, molto legata ai temi di attualità e che fa divertire i bambini ma facendoli riflettere su argomenti molto importanti. Saranno sul palcoscenico del Civico, educar danzando a teatro, carbone e sorpresa diamante, passaggi e tracce di e con centro studi danza di Loredana Rovagna e Dida, dimensione danza. Leo, Leonardo da Environment Observer dell'associazione Laboulé, il barone rampante dell'associazione Forsterb-Choyer, i giardini di Mauthausen, tratto dall'omonimo libro dello scrittore spezzino Alessandro Golinelli e con la collaborazione del Conservatorio della Spezia, Giacomo Puccini. La stagione Teatro Ragazzi 2015-16 si aprirà con Questa Zebra non è un asino, primo appuntamento delle domeniche a teatro in programma domenica 29 novembre alle 16. Particolarmente attuale la lettura del barone rampante, sop opera rock, liberamente tratto dal romanzo di Italo Calvino. Ci divertiva appunto pensare a Cosimo, il barone rampante, che decide, per non voler più mangiare lumache, di andare a vivere sull'albero e dal quale non scenderà più e sul quale imparerà a fare ogni cosa. Ma, diciamo, da questa distanza da cui fa e vive il mondo e lo vede soprattutto, diventa un'icona, diventa un riformatore sociale, diventa veramente una pop star. Infine, un appello. Per le scuole è difficile far venire i ragazzi, perché è difficile organizzare le uscite, però cercate in tutti i modi di portare i ragazzi a teatro. E alle mamme e ai papà dico, ci sono molti spettacoli la domenica pomeriggio ed è una bellissima usanza quella di venire a vedere uno spettacolo a teatro alle 4 insieme ai bambini. Domani e mercoledì alle 20.45 in programma il secondo spettacolo in abbonamento al Teatro Civico della Spezia, dal titolo Qualcuno volò sul nido del cuculo per la regia di Alessandro Gasman, disponibili ancora pochi biglietti, un allestimento personalissimo, elegante e contemporaneo, diretto un cast eccezionale. Il risultato è uno spettacolo appassionato, commovente e divertente. Questo naturalmente per i più adulti. L'Ampi della Spezia organizza per domani la presentazione del libro Eravamo come voi, storie di ragazzi che scelsero di resistere, di Marco Rovelli alle ore 17 nel Salone della Provincia. E mercoledì nel Salone Sforza alle 16.30 una conferenza organizzata dal Garden Club, il direttore del Museo Civico a Medeolia, dottor Andrea Marmori, dal titolo Il Nemus e la Silva. Il professor Benelli, presidente dell'Accademia Capellini, introdurrà il relatore, il gentile pubblico, invitato a partecipare numeroso, ringraziando per l'attenzione che sarà dedicata all'avvenimento. Si terrà invece venerdì 20 novembre la cerimonia di assegnazione delle borse di studio alla memoria di Alfredo Totti, l'iniziativa promossa da Confartigianato, vuol facilitare i giovani più meritevoli nella prosecuzione degli studi, cercando nel contempo di appoggiare prevalentemente quegli orientamenti professionali che meglio rispondono alle esigenze odierne e alle prospettive di impiego. Tra tutte le domande pervenute, la Commissione, in base ai voti scolastici e universitari raggiunti, ha scelto 10 giovani che riceveranno una borsa di studio di 500 euro. L'evento, aperto al pubblico, si terrà appunto venerdì alle 18 presso la sede di Confartigianato, la Spezzi. Da 18 anni in su, l'Università delle Tre Età di Lerici inaugura domani il nuovo anno accademico con moltissimi corsi e molte novità. I dettagli nell'intervista di Laura Ivani, le immagini di Raffaele Maurella. Verrà inaugurato domani, martedì l'anno accademico 2015-2016, dell'Uni3, l'Università delle Tre Età. Allora, spieghiamo qual è il programma della giornata. Bene, domani appunto viene inaugurata per l'Università delle Tre Età e tengo a precisare questa nuova dicitura, non più Università della Terza Età ma delle Tre Età, perché in questo discorso intergenerazionale ci si può iscrivere a questa Università a partire dalla maggiore età. E domani diamo l'inizio, c'è la giornata inaugurale dei corsi con una lezione magistralis della dottoressa Diana Brusacà, che è la sede presidente della sezione penale del nostro Tribunale, sulla immigrazione, un tema di particolare importanza, trattato sotto il profilo giuridico, sotto il profilo culturale, sotto il profilo sociale. Tantissimi corsi presenti, proprio appunto per attirare un pubblico sempre più variegato dal punto di vista dell'età ma anche degli interessi. Sì, abbiamo a fianco alle materie che sono sempre state praticamente trattate e che sono la filosofia, la storia della letteratura, Dante, la storia della musica, la storia dell'arte. Abbiamo introdotto quest'anno due innovazioni, le encicliche, che saranno trattate da Don Franco Pagano, il rettore del nostro seminario, e le tradizioni religiose, oltre ad un corso di egittologia che sfocerà poi anche nella visita al Museo Egizio di Torino, così come gli altri corsi sfoceranno anche in eventi pratici che porteranno anche a gitte, a visite guidate, perché la nostra associazione è un'associazione culturale ma anche allo scopo di riunire le persone, di creare quindi un ambiente solidale dove ci si possa sentire accolti e dove si possano accogliere gli anziani ma anche i più giovani. Ecco, come e dove seguire le lezioni? Allora, le lezioni si tengono in Piazza Bacigalupi, alle Erici, nel Palazzo delle Scuole, e si tengono ogni martedì e ogni venerdì. E poi ci sarà qualche cosa, altre conferenze che sono già programmate, che si terranno anche nelle giornate di mercoledì e forse qualcosa anche di lunedì. Ora cominciamo, poi vediamo quante adesioni ci saranno, quale sarà l'utenza, quali saranno i desideri anche delle persone che verranno. Domani iniziamo nella sala del Consiglio Comunale e speriamo che ci sia tanta gente e che partecipi perché crediamo che la terza età abbia bisogno proprio anche di sentirsi viva e di sentirsi utile e di sentirsi partecipe. Undicesima edizione della BPV Cup, premio femminile internazionale organizzato da FIDAPA La Spezia, che si è svolto stasera al CAMEC alla presenza della Presidente Cristina Rossi, è stata premiata la dottoressa Maria Stella Padula, premiata anche una giovane donna distintasi nella sua professione. L'abbiamo intervistata. Una giovane architetto, premiata questa sera, una carriera luminosa, già un percorso molto buono, ma insomma le prospettive per il futuro, te lo auguriamo, saranno sicuramente ancora migliori di quanto hai fatto finora. Che cosa rappresenta intanto per te il riconoscimento che hai ricevuto questa sera? Questo premio è il simbolo della passione e dell'impegno che le socie della FIDAPA di La Spezia hanno messo fino adesso da dieci anni a questa parte. E' un po' per me quello che io faccio nella mia quotidianità e nella mia professione. L'impegno come donna, come architetto, l'impegno nella vita associativa come socia FIDAPA e l'impegno poi come donna nella mia vita sociale, sentimentale o familiare. Quindi è un esempio per noi giovani per proseguire nei nostri progetti. Giovane e donna, quanto è stato difficile riuscire a fermarti professionalmente? E' un continuo sacrificio, quotidianamente uno deve in qualche modo dare e togliere una parte di sé. Non deve mai credere di essere arrivati, sempre una grandissima umiltà, una grandissima positività e soprattutto una grande passione. Io dico rincorrere i propri sogni, che non significa star così con i piedi per terra, ma avere un obiettivo preciso sul cui focalizzarsi e per il quale procedere. La banca sostiene in prima linea questa iniziativa tutta femminile. Perché questa scelta? Allora, questa scelta è per due motivazioni. Intanto perché siamo presenti alla Spezia da sempre. Siamo una delle realtà più importanti nella città come private banking e soprattutto perché FIDAPA, diciamo la missione di FIDAPA, che è quello di valorizzare, dare luce comunque ai talenti femminili nel mondo del lavoro, è, diciamo, rappresenta gli stessi valori di banca generale. Nel nostro settore, purtroppo, la presenza femminile è sempre stata scarsa. Ultimamente, recenti analisi dicono che lentamente i numeri stanno crescendo, però diciamo che ai vertici delle banche, purtroppo, le presenze femminili sono sempre scarse. A questo proposito, però, stiamo vivendo nel mondo, diciamo, della finanza un momento di fermento e tanti gruppi si stanno attivando verso, in direzione del femminile. Banca Generali, diciamo che ha anticipato questa cosa perché ha creato da tempo il Selected Talent, che sarebbe un progetto focalizzato alla valorizzazione della presenza femminile, ma soprattutto anche alla selezione di quelle eccellenze nel nostro mondo finanziario per le loro capacità. Apriamo la pagina sportiva, quello appena trascorso. È stato un weekend ricco di iniziative per lo Sport Club Virtus, Storica Società Pugilistica Spezzina. Nelle giornate di sabato e domenica sono infatti svolti un corso di formazione, una masterclass per istruttori di primo livello Spartan System, un importante metodo di allenamento per gli sport da ring, durante i quali sono qualificati ben 10 nuovi istruttori, hanno partecipato alla lezione oltre 30 atleti provenienti da diverse regioni d'Italia. Sull'attività pugilistica della Virtus, invece, sabato 14 novembre, l'atleta Ilaria Marconcini ha gareggiato nella prima fase dei campionati di light box al 105 Stadium di Genova, opposta all'avversaria Laura Briano. L'incontro è terminato in parità, mettendo in luce però l'ottima prestazione dell'atleta Spezzina. Per la pallavolo in Serie B2 torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. la Zephyr Trading, che a Santo Stefano Magra batte di netto la Robur Scandicci, in attesa del derby con l'Ospedia di sabato prossimo fra i protagonisti. Dopo tanta panchina, lo schiacciatore opposto Matteo Aldovardi, che sentiamo nel servizio di Andrea Catalani. Matteo Aldovardi, dopo tre stop consecutivi, possiamo proprio dirlo, è proprio bello vincere, vero? Sì, è proprio bello. Poi comunque veniamo in un momento molto difficile, tanti infortuni, problemi con il lavoro. Diciamo che il gruppo stasera è stato molto un gruppo, eravamo molto affiattati come partita. Personalmente sono contento, abbiamo sposato gente che non giocava in alcuni ruoli da anni, come Baldassini che l'ha rimessa al centro. Mi è entrato fuori una grinta unica, la partita era difficile, si sapeva, gli avversari cercavano punti. Una squadra ostia, loro erano molto aggressivi in battuta. Senti, come ti senti? Ti senti meglio ora che stasera, che hai vissuto una serata un po' da protagonista, diciamo dopo tanta panchina, vero? Era ora dopo oltre un anno che sei qua, giusto? Sì, sì, diciamo l'anno scorso sono rientrato in società dopo cinque anni di inattività completa. Per me è una soddisfazione. Per me la società sta lavorando molto bene, anche se i risultati speriamo che vengano. Io credo che il lavoro sia la cosa migliore e la continuità. Personalmente sono contento perché abbiamo vinto, ormai insomma è arrivato ad una certa età, però lavorando sull'attività di prendermi e come mi sono ripreso io, penso che la squadra si spinta bene per fare buone cose. Avevi fatto una partita più o meno intera una settimana fa, stasera sei stato appunto direi tra i migliori. Cosa dici? Ce lo possiamo aspettare un Aldo Vardo di top scorer per il derby? Ma quello si spera, uno viene in palestra con la competitività, a me piace. Fa parte dello sport e il derby comunque penso che sarà una partita strana come tutti i derby. Sarà partita molto intensa, insomma il derby è una cosa a parte. Nulla ancora deciso in Casa Spezia per il destino del direttore sportivo Igor Budan e soprattutto per quello che riguarda il mister Nenad Bielizza. Dopo la gara con il Cagliari, persa per 3-0 al picco, sono stati avviati i consulti tra il presidente Grazzini, Gabriele Volpi e Damir Miscovic, l'ex tecnico dell'Austria-Vienna. Avrà un'altra possibilità sabato a Novara. In caso di risultato negativo, non necessariamente un pareggio, circolano i nomi di possibili sostituti, Novellino, Gautieri e Camplone, con la candidatura del mister della primavera Fabio Gallo, che però contrasta con la volontà dello Spezia di ricercare un allenatore d'esperienza. L'avventura invece è ormai prossima alla fine per il direttore sportivo Igor Budan, che dovrebbe essere esonerato tra oggi e domani per lasciare il posto al responsabile del settore giovanile Pietro Fusco. L'addio di Bielizza potrebbe anche significare un ridimensionamento del progetto triennale di Damir Miscovic, in questo momento impegnato in Nigeria insieme a Volpi, ma che si gode il suo rieca in testa alla classifica nel massimo campionato croato, con quattro lunghezze di vantaggio sulla rivale storica Dinamo Zagabria. Insomma, se per Volpi le gioie arrivano dall'est, per lui e per i tifosi aquilotti solo i dolori di questa tribolata stagione. E veniamo invece alle previsioni del tempo per domani, che vedranno un cielo da nuvoloso accoperto per una presenza spessa di nubi basse e stratificate, locali schiarite, più ampie sul ponente, con possibili isolati piovaschi, però più probabili sul centro della regione. Umidità su valori medio-alti, venti deboli variabili in prevalenza dai quadranti meridionali, locali rinforzi fino a moderati, in particolare sui crinali e mare poco mosso. Temperature intorno ai 15 gradi. È tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni del TLS Giornale. Arrivederci.